E' stata una giornata all'insegna dell'equilibrio, la ventisettesima del campionato di C-Silver pugliese di pallacanestro. Tre partite decise dopo un tempo supplementare, altre due terminate con scarti ridotti. La capolista Udas Cerignola si impone a Monopoli, allo scadere dei 40 minuti degli ulteriori 5. E così, per gli offantini, è arrivata l'ennesima vittoria, la ventiduesima di fila, il filotto migliore persino di quello conseguito in occasione dell'ultima promozione in B, che le permette di mantenere i sei punti di distacco dal Nardò, seconda in classifica, che a Martina ha battuto 76-52 la Valle d'Itria. In terza posizione la bianca cestistica Ostuni, alla seconda vittoria consecutiva, 69-65, contro la Valentino Castellaneta. Si accende anche la lotta per il quinto posto, con Monopoli raggiunto da Basket Francavilla e Tamma e Angel Manfredonia. I primi stralipano per 113-72, mentre i sipontini di Ciociola piegano la Bisanum Sunshine Vieste solo nell'appendice di gara per 82-79. E Bagarre anche a 22 punti, dove ci sono quattro squadre. Oltre al Vieste, la Ecodown Olimpica Cerignola, Mola New Basket e Diamond Foggia.